Incredibile rimonta della Infodrive Capodorlando che vince gara 1 in overtime contro Ragusa 67-60. I paladini erano infatti sotto di 10 punti a 1 minuto e 40 secondi dal termine, 49-59, e firmano un parziale di 10-0 con il canestro di Marini che vale il supplementare. Nell'overtime l'inerzia è tutta dalla parte della squadra di Cocce Bolignano che è spinta da un pubblico da Serie A si aggiudica gara 1 per 67-60. Una partita che ha visto Ragusa in vantaggio per 39 minuti e 45 secondi. Gli ospiti partono subito forte, trascinati da Brown e Sorrentino volano sul 7-23 alla fine del primo quarto con l'Orlandina che sembra inerme e demotivata. Ci vuole una scossa e ci pensa Favali dalla panchina, 6 punti in fila per il giovane bianco-azzurro e anche un'ottima difesa che permette alla formazione di Bolignano di rimettersi in carreggiata prima dell'intervallo lungo, 26-34 al ventesimo. Ad inizio ripresa Ragusa torna a segnare e si porta sul più 11, poi ci pensa Iasaitis a dimezzare il vantaggio. Palermo porta i suoi sul meno 3, ma un fallo antisportivo di Marini riporta Ragusa sul più 9 e ci pensa ancora Favali a portare il match in equilibrio, 43-47 al trentesimo. Sembra tutto apparecchiato per una rimonta dei locali, ma Ragusa rimane in controllo della gara e anzi con un canestro di Gaetano vola a più 10, 49-59 quando mancano 1 minuto e 40 circa al termine della partita. Qui succede di tutto, tripla di Palermo, palla persa e fallo antisportivo fischiato a Brown, 2 su 2 di Caridad alla lunetta e sulla rimessa successiva Iasaitis trova la tripla del meno 2 a 50 secondi, 8 a 0 in meno di 30 secondi e Ragusa non si riprende. Sbaglia ancora Brown ed è Marini, forse il peggiore della serata per i bianco-azzurri a trovare un incredibile canestro del pareggio a 14 secondi dalla fine. La tripla di Brown va a lunga e l'overtime è soltanto una formalità per l'orlandina che ha dalla sua tutta l'inezia del mondo, 8 a 1 il parziale negli ultimi 5 minuti e coach Bolignano può tirare un sospiro di sollievo, fattore chiave il pubblico, davvero incandescente negli ultimi minuti di gioco. Ma non è tempo di adagiarsi sugli allori, mercoledì il primo match point a Ragusa in gara 2.